Buongiorno a tutti i nostri amici, e oggi questo signore della croce, perché io ho riempitato il progetto che si è avanti a me, una festa più grande, simile alla croce, io ho riempitato il cielo, la loro salvezza, io ho riempitato il giorno di croce, io ho riempitato il giorno di croce, io ho riempitato, io ho riempitato, gli aiuti necessari, sappiamo bene anche che ogni mattina il nostro inseguro è il corassumino alla croce di Cristo, ci segniamo la segna della croce, iniziamo il nostro lavoro, le nostre azioni nel nome della croce, e quella croce che ci sia il segno dei ricordi, noi sappiamo che è il nome della nostra croce, che ci sia la croce, e per celebrare che è il mio figlio di sé, che riconosciamo il nome dei nostri e il patrick. come pensi a Dio del Vivo e del Vivo e del Vivo Grazie. 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 Non vi ricordavano che il Dio era un occa, e il Dio mi disse che non crede in te. Non vi ricordavano che il Dio era un occa, ma il Dio mi disse che non crede in te. Non vi ricordavano che il Dio era un sacco dei Sofili, ma lui mi sembri che la was Ogazione. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti.